La città di Pompei è una città romana, quindi tutto quello che noi vediamo nel nostro percorso è romana, quindi più o meno in quale periodo sono? Quanto? Quanto? Ecco la città di Pompei. Ecco la città di Pompei. Ecco la città di Pompei. Ecco la città. Ecco la città.